Iscriviti ai canali Blue Voice Alive e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Mediante la saggezza che l'uomo sviluppa in sé, egli, quindi abbiamo detto, libera continuamente gli spiriti degli elementi all'epoca della sua morte. Con la sua ignoranza, rimanendo attaccato solo agli oggetti dei sensi, egli che cosa fa? Lega a sé gli spiriti elementali e li costringe a far sempre ritorno con lui su questa terra, cioè a rinascere con lui. Che l'uomo possa godere il giorno, egli lo deve alla circostanza che gli esseri spirituali divini scacciarono gli spiriti elementari dal giorno e li imprigionarono nella notte. Se l'uomo è pigro, allora questi spiriti elementari passano continuamente in lui, ma egli li lascia come sono, ovvero con la sua pigrizia l'uomo lascia immutati e riconduce spiritualmente al giorno quelli invece che entrano in lui mentre è diligente e attivo, cioè mentre lavora. Quando varchiamo la soglia della morte, gli esseri che abbiamo riportati al giorno possono ritornare nei mondi spirituali. Quelli che abbiamo lasciati nella notte, a causa della nostra pigrizia, restano a noi vincolati e li riportiamo sempre con noi nelle nostre successive incarnazioni. Una vasta schiera di esseri elementari dovette cooperare per mettere in moto la luna affinché potessero svolgersi le nostre fasi lunari e perché tutto ciò che ha relazione con le fasi lunari potesse svilupparsi qui sulla nostra terra visibile. A questo scopo altri esseri dovessero anche essi venire sottoposti ad un incantesimo, quindi condannati e imprigionati da entità spirituali superiori. Con la sua armonica comprensione dell'universo, col suo intimo sentimento di soddisfazione riguardo al mondo, l'uomo diventa il liberatore di esseri elementari spirituali. mentre con la sua irritabilità, con il suo malumore, egli diventa un incantatore di esseri elementari che potrebbero invece essere liberati dalla sua serenità. Infine esiste una quarta categoria di spiriti elementari e sono quelli che devono cooperare a produrre il corso solare dell'anno affinché durante l'estate il sole possa splendere vivificando e fecondando la terra e ciò che deve crescere dalla primavera fino all'autunno possa appunto giungere a maturazione. A questo fine dati spiriti devono venire incatenati nell'inverno, ovvero devono subire l'incantesimo durante il periodo del sole invernale. Pensiamo ad un uomo che verso la festa di Natale coltivi in sé sentimenti sempre più devoti, che impari a conoscere tutto il significato del Natale, quando la vita del mondo esteriore fisico è proprio ridotta al minimo e in compenso lo spirito deve essere tanto più vivo. ecco supponiamo che l'uomo voglia realmente sperimentare intimamente il periodo invernale fino alla Pasqua. Egli ricorderà che con la resurrezione della vita esterna è congiunta la morte dello spirituale e quindi passerà la Pasqua con comprensione. Quest'uomo non ha una religione solo esteriore, ma ha una comprensione religiosa dei processi della natura, della spiritualità che vi domina. E con questa sua devozione, con la sua spiritualità, egli libera quella quarta classe di spiriti degli elementi che sempre entrano nell'uomo e che sempre ne escono e che sono legati al corso del sole. In un uomo che è scettico in questo senso, cioè che nega lo spirito o che non lo sente, che si implauda nel caos materialistico, penetrano gli spiriti degli elementi di questa quarta categoria e chiaramente rimangono quali sono. Alla sua morte avverrà ancora che questi spiriti elementali della quarta categoria potranno o venir liberati e quindi restituiti al loro elemento, oppure rimanere incatenati all'uomo per ricomparire quando questi si reincarnerà. Guarda il fuoco e il fumo. Se ti unisci al mondo esterno in modo che il tuo processo spirituale animico somigli a ciò che avviene quando si produce fuoco e fumo, in modo che tu stesso spiritualizzi le cose nel tuo processo di conoscenza e di sentimento, allora tu aiuti certi spiriti degli elementi ad ascendere. Se ti unisci invece col fumo li condanni alla rinascita. Se ti unisci al giorno, liberi ancora gli spiriti del giorno. Guarda la luce, il giorno, la luna crescente, la metà assolata dell'anno. Se agisci in modo da ricondurre gli spiriti degli elementi alla luce, al giorno, alla luna crescente, all'estate, allora alla tua morte liberi questi spiriti degli elementi che ti sono tanto necessari ed essi ascenderanno al mondo spirituale. Ma se ti unisci al fumo, se passi ottusamente dinanzi a ciò che è solido, se ti unisci alla notte con la tua pigrizia, se ti unisci agli spiriti della luna calante col tuo malcontento, se ti unisci agli spiriti che furono incatenati durante l'inverno col tuo negare iddio, con la tua assenza di spiritualità, allora condanni questi spiriti degli elementi a rinascere con te. Qui ci appare in tutta la sua importanza l'enigma umano. Quando diveniamo consci che con tutte le nostre azioni, perfino col nostro umore, influiamo su tutto un cosmo, che il nostro piccolo moderno interno è di un'importanza immensa per tutto ciò che avviene nel macrocosmo. Proprio questo accrescimento del senso di responsabilità è la cosa più bella, è la cosa più importante che possiamo ricavare dalla scienza dello spirito. Ma ora vediamo i quattro stati planetari. Come l'uomo passa da un'incarnazione all'altra, quindi come passa da una metamorfosi all'altra? Così tutti gli esseri dell'universo, dal minimo al massimo, passano attraverso le reincarnazioni. Ed anche un essere, qual è la nostra terra stessa, ossia un essere planetario, passa attraverso le reincarnazioni. La nostra terra non è nata già come terra, ma fu preceduta da un'altra condizione. Già spesso abbiamo detto che come l'uomo in questa sua esistenza è la reincarnazione di una vita precedente, così anche la terra è la reincarnazione di un antico pianeta che l'ha preceduta. Noi denominiamo luna quel pianeta precedente alla terra e con ciò non intendiamo la luna di oggi che è solo un frammento, un residuo della luna antica, ma intendiamo uno stato precedente della nostra terra che ebbe esistenza una volta e passò poi per un periodo di vita spirituale che usiamo chiamare pralaya, così come l'uomo passa per uno stato spirituale dopo la morte. Quel pianeta lunare è poi rinato come rinasce l'uomo. A sua volta però lo stato planetario della luna è la reincarnazione di uno stato planetario precedente e che chiamiamo sole. Questo sole che però non è il sole attuale ma un essere del tutto diverso è la reincarnazione dell'ultimo pianeta al quale dobbiamo guardare quando parliamo delle diverse reincarnazioni della nostra terra, ovvero l'antichissimo Saturno. Quindi abbiamo detto che abbiamo quattro reincarnazioni successive. Partiamo da Saturno, qua c'è il momento del pralaya, sole, pralaya, luna, pralaya, terra. Sole, Saturno, luna, terra. Abbiamo anche detto sovente che ogni stato planetario ha un suo compito speciale. Qual è il compito della nostra terra? Il compito della nostra terra è di rendere possibile all'uomo, quale oggi lo conosciamo, appunto la sua esistenza umana. Tutti gli effetti della nostra terra sono tali che per essi l'uomo diventi un'entità egoica, un io, il che non avveniva negli stati precedenti per i quali egli è passato. Dunque l'uomo è diventato uomo, nel senso attuale, solo qui sulla terra. Anche gli stati planetari precedenti, per cui la terra è passata, ebbero un compito analogo. Altri esseri divennero uomini su quegli altri pianeti, esseri che appunto oggi stanno più in alto dell'uomo. Un'importante verità è che gli dèi una volta furono uomini. se contiamo in senso spirituale i gradini della scala dei regni cosmici, possiamo quindi dire di avere visibili sulla terra il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale e quello umano. Poi si passa all'invisibile e si ha il regno degli angeli, il regno degli arcangeli o spiriti del fuoco, il regno delle arcai che sono i principati, ovvero gli spiriti della personalità. Mentre queste entità, riguardo al loro essere e divenire inferiore, progredivano così da uomini a dei o a messaggeri divini, questa è una denominazione giusta per tali entità, mentre dunque essi salivano ad un'esistenza spirituale, si modificavano anche le condizioni del pianeta sul quale e per il quale esse vivevano. Se guardiamo indietro all'antico Saturno sul quale le arcaie erano uomini, lo troviamo ben diverso rispetto alla nostra terra. E ora lo vediamo. L'antico Saturno dunque era costituito unicamente dall'elemento del fuoco, del calore. La nostra esistenza terrestre cominciò nella sua prima metamorfosi come pianeta di calore. Ecco che l'uomo di Saturno, lo spirito della personalità, doveva formarsi di calore, di fuoco, in tutto il suo corpo. E così faceva, infatti. Lo spirito della personalità sull'antico Saturno aveva soltanto un corpo di calore. E il suo corpo consisteva unicamente di fuoco. Questa è la peculiarità dell'evoluzione di Saturno. Per così dire, il calore gradualmente si trasforma dall'inizio di Saturno, quando è calore puramente interiore, fino all'epoca finale, quando diventa calore esteriore, cioè percepibile. Quindi di questa condizione si può dire e gli spiriti covarono nel calore e portarono veramente a maturazione i primi corpi di fuoco. Dallo spazio cosmico vennero covati i primi corpi di fuoco. Se c'è lecito usare l'espressione, possiamo dire dall'interiorità si coagularono nello spazio di calore le uova di calore esteriore. In realtà, gli spiriti della personalità generavano di continuo quelle uova di calore e nuovamente le facevano sparire. avremmo percepito come una respirazione dell'intero Saturno, ma una respirazione di fuoco. Vogliamo ancora adoperare un'espressione alla buona che ci renderà la cosa ancora più chiara. A taloni spiriti della personalità piacque meglio, per così dire, di non riassorbire tutto il calore espirato, ma di lasciarne via via indietro una parte, sicché al momento dell'ispirazione non tutte le uova di Saturno scomparvero, ma alcune rimasero. Così a poco a poco si produsse su Saturno una dualità. Si ebbe del calore interno e accanto a questo il calore esterno incorporato nelle uova di Saturno. Quindi non tutto venne riassorbito. Gli spiriti della personalità abbandonarono, per così dire, a se stesso una parte del calore espirato. Lo lasciarono esistere fuori di loro. E la domanda nasce spontanea. Perché lo fecero? Dovettero farlo poiché altrimenti non sarebbero potuti diventare uomini su Saturno. E che cosa significa diventare uomo? Significa arrivare alla coscienza dell'io. Non lo si può se non si è in grado di distinguersi come io da un mondo esterno. solo per questo fatto c'è un io. Per il fatto che gli spiriti della personalità spinsero in basso una parte degli esseri di Saturno in un'esistenza di calore puramente esteriore essi giunsero al loro io cioè raggiunsero la loro autocoscienza e questo l'io. Essi dissero io devo emanare qualcosa fuori e lasciarlo fuori di me per potermene distinguere affinché la mia coscienza dell'io si accenda al contatto con l'elemento esterno. Ed è così che crearono accanto a sé un regno. si crearono per così dire esternamente un'immagine della loro interiorità. Ne derivò pure che quando la vita di Saturno fu compiuta gli spiriti della personalità non furono affatto in condizione di far scomparire Saturno. Se essi avessero ispirato tutto il fuoco Saturno sarebbe scomparso ma così essi non furono in grado di respirare ciò che avevano esteriorizzato. Ecco che dovettero abbandonare a sé il campo che aveva dato loro la possibilità di giungere all'autocoscienza. Gli spiriti della personalità avevano raggiunto l'autocoscienza avevano riassorbito in sé una parte del calore avevano accolto l'autocoscienza nel loro punto centrale e lasciato indietro in cambio un regno inferiore. Gli spiriti della personalità impressero la loro impronta sull'antico Saturno anche più intensamente di quanto avrebbero dovuto lasciando indietro qualcosa di sé non riassorbendo tutto ma abbandonando i corpi di calore esteriormente percepibili. Certo Silvestra qui Steiner ce lo dà un buon indizio per comprendere in che cosa consista la croce anche se comunque ci arriveremo più avanti sarà ancora più chiaro. Già la dualità è evidente asse orizzontale asse verticale per cominciare. Dunque qual è la forza che domina negli spiriti della personalità sull'antico Saturno? Semplicemente quella che oggi conosciamo nell'uomo come forza del pensiero perché in realtà gli spiriti della personalità non fanno altro sull'antico Saturno che esercitare che cosa la loro facoltà di pensiero. Producono quelle uova di calore formando in sé la rappresentazione delle medesime. Dunque si tratta del potere di rappresentazione degli spiriti della personalità il quale però è molto maggiore che nell'uomo odierno. in sostanza era dunque la forza degli spiriti stessi della personalità quella che lasciò dietro di sé i residui dell'antico Saturno e questi resti riapparvero sempre di nuovo alla fine perfino durante l'evoluzione solare. Ora poco dopo intervenne il regno dei troni a disciogliere quel regno inferiore lasciato indietro dagli spiriti della personalità dopodiché Saturno entrò in una specie di notte planetaria a cui seguì l'alba planetaria. E qui andiamo alla terza parte per cui torno fra poco fra qualche secondo grazie